Ciao a tutti e ragazzi in questo video vi farò vedere i miei regali di compleanno Ecco qui ragazzi, finalmente con What I've Got For My Birthday E comunque il mio compleanno in realtà era il 2 maggio, quindi davvero tanto tempo fa Però non ho fatto questo video perché in questo mese sono successe varie cose Ho fatto il video della canzone, mi sono tagliate i capelli E vabbè però finalmente eccomi qua E comunque ragazzi ovviamente non lo faccio per vantarmi Ma solo perché mi piacciono questi tipi di video, mi divertono tantissimo E comunque me l'avete anche chiesto in tantissimi Quindi procediamo con il video Allora la prima cosa che vi vorrei far vedere è questa trousse troppo bella È veramente incantevole Waiting for a prince di Pupa Questa principessa Troppo troppo bella Ed eccola qui Waiting for a prince che vorrebbe dire aspettando il principe È comunque troppo bella E indovinate C'è pure la matita che è una coroncina che si nasconde qua dentro Mamma mia è troppo bella E poi ovviamente si apre e c'è pure questo per luci da labbra E anche uno specchietto Troppo bello veramente Proprio innamorata Con le labbra è veramente troppo carino E questa è stata regalata dalle mie amiche Poi ci sono queste vans che l'avete già viste se avete visto il mio video del shopping hall a Napoli con mia cugina Che indossavo queste vans e comunque sono state regalate da mia zia però in anticipo perché se no le avevamo trovate là e quindi mia zia ha pensato di regalarmele in anticipo E comunque sono veramente troppo belle E vabbè grazie mille zia veramente troppo troppo comode pure veramente troppo belle mi piacciono troppo Poi questa è regalata da mia nonna e dentro ci sono dei soldi non vi dico quanti ne sono però sono abbastanza E comunque grazie e niente andiamo avanti Poi ci sta questo che è stato regalato dai miei genitori Che è un pigiama E della Disney come vedete Minnie e queste cose qua della Disney E la borsa E infatti ecco qua Anche il pigiama è di Minnie Ed è veramente troppo 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 bello veramente grazie Carinissimo E qua ci sta Minnie che fa l'occhiolino E che fa così ed è troppo troppo carino Con anche il cactus Bello veramente troppo E poi ci sta questo profumo sempre regalato dai miei E comunque è veramente troppo bello L'odore è proprio immaginabile Fantastico Ed eccolo qua Bello rosa pure E comunque signorina in fiore Di Salvatore Ferragamo Ed è proprio Devo risentire l'odore Sa di fiore infatti E' bellissimo Adesso invece vi mostro Altre scarpe regalate dai miei genitori E comunque ci sono davvero bellissime Guardate Belle e bianche con questo fucsia E ovviamente sono della Nike Ed ecco qui ragazzi Eccole E queste sono le Nike Air Force One E sono bellissime Mi piace troppo questo fatto del bianco E poi arriva il rosa Cioè il fucsia E comunque Il modello Uno dei modelli più belli Delle Nike Secondo me finora E mi piacciono troppo Davvero bellissime E poi sotto È fatta così E sono favolose Poi non so se avete notato Che qua ci stanno Due strisce Diciamo così Anche un'altra trasparente Con dei buchi Bellissima Veramente particolare Allora ragazzi Poi c'è questa busta Che ha vari vestiti Della Bershka E comunque Questo è da parte Della mia nonna americana Che Allora Diciamo così Mi ha dato dei soldi Per comprare Tutte queste belle cose Comunque Allora Questa è la piuma E indovinate un po' Ecco qui Barbie Comunque C'è scritto sopra Barbie Beauty is being you E comunque Che vorrebbe dire La bellezza È essere te stessa Ed eccola qua Carinissima E questo andrebbe pure bene Con le mie Nike Bianche e fucsia Perfetta proprio Anzi E comunque Sì Bellissima Poi ragazzi C'è questo Che fa Volontasticamente Bellissimo Che anche questo Va benissimo Con sia Tutte le cose Di Barbie Anche le Nike Nuove Fucsia E eccola qua Questa giacca Bellissimissima Sempre ovviamente Beccica E vabbè Ragazzi Senza parole E ragazzi È bellissima Questa dietro Oddio Come ultima cosa Ci sta questa gonna Che in realtà Ragazzi Non è una gonna Ma sono Degli shorts Questo è il bello Che sembra Una gonna Ma in realtà Sono shorts Troppo bello Mi piace tantissimo Ah E ragazzi Questo pure Sta in tinta Cioè va bene Con le scarpe Le Nike Nuove E vabbè La maglietta E la giacca Nuova E ragazzi Spero tantissimo Che vi siano piaciuti I miei regali E che vi sia piaciuto Anche questo video E ragazzi Ricordatevi di iscrivervi A questo canale Se non siete già iscritti E comunque Perché quest'estate Farò un sacco Di video bellissimi Per esempio Il room tour E vabbè Ricordatevi di iscrivervi E adesso Incominciamo con i saluti Allora Ciao Angelica Ciao Enza Ciao Martino Ciao Carol Ciao Alberta Ciao Giussi E ciao Deborah Ciao Jessica Ciao Giulina27 Ciao Melanie Ciao V3 Ciao Paolo Ciao Giulia Ciao Adele Ciao Pokémon Ciao Anna Maria Ciao Videogame Ciao Benedetta Ciao Melania Ciao Veronica Ciao Gaia Ciao Caterina Ciao Grazia Ciao Claudia Ciao Alberta Ciao Melissa Ciao Reborn0409 E ciao Firat Santo Ruvo E ragazzi Spero tantissimo Che vi sia piaciuto Questo video E ricordatevi Di iscrivervi A questo canale E di mettere Tantissimi like Ci vediamo Nel prossimo video Alla prossima ragazzi Ciao ciao